Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi se avete problemi riguardo al tasto windows che cliccate per sbaglio su wordzone adesso c'è questa funzionalità molto comoda che nel senso se tu clicchi quel tasto windows non si apre questa pagina, questa scheda così, non si apre tipo non so sto giocando, per sbaglio apriamo il tasto windows e apro questo per sbaglio e perdo la partita quindi c'è questa funzionalità che ti permette di disattivarla quindi andiamo un attimo su impostazioni, tastire mouse, interfaccia, scendiamo fino a giù qui c'è usa il puntatore del sistema pure funzionalità del tasto sistema sistema operativo quindi come ho detto se cliccate il tasto windows si apre proprio la parte del sistema operativo e si chiude l'icona a wordzone quindi invece se mettete gioco, premo tasto windows sto premendo e niente, tutto a posto spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao